Ciao a tutti ragazzi e ragazze sono tornata con un altro video appunto di Aliexpress come avrete già letto dal titolo mi sono arrivati dei pacchettini, mi sono già facilitata nell'apertura per non rendere ecco il video troppo lungo e ora vi mostro quello che mi è arrivato allora parto con il mostrarvi gli smalti semi permanente che mi erano arrivati l'altra volta della gel polish lo stesi sulla tip così che possiate vedere il colore in maniera più nitida questo qua rosa era il numero 1864 cioè questo qui cioè questo qua gel polish appunto 1864 mentre quello blu appunto sempre gel polish numero 1621 così che almeno potete vederli bene stesi sulla tip poi mi è arrivato un altro smalto questa volta di questa marca qui H&M credo vabbè comunque questa ed è il numero 7103 esteso su tip è questo bellissimo colore qui sembra un argento uno champagne sull'oro non si capisce comunque ha un effetto veramente bello non l'ho stesso benissimo perché ecco ho cercato di essere abbastanza veloce perché dovevo appunto registrare il video e appunto questo qui è il H&M 7103 poi prossimo pacchettino mi è arrivata questa bellissima collana questa bellissima collana con questo gufo è un po' grande in effetti cioè non rimane veramente piccolo piccolo però guardate che bello ci fa anche da specchio si vede anche il mio telefono con l'unicorno che sto registrando ok ecco ci sono io e va bene comunque ecco questa qui è la collana gufo come potete vedere veramente bella e niente non è pesantissima dietro a questi a queste rose ecco disegnate non so se si riuscirà mai a vedere si ecco e niente questa qui pagata intorno a 1 euro 2 euro comunque sempre poco sapete tutti che i tempi di Aliexpress variano da un mese un mese e mezzo due mesi tre mesi dipende dal venditore e questa mi sembra che è arrivata entro un mesetto un mese e mezzo insomma non cioè ci ha messo tanto però ecco c'è anche cose che ci mettono molto molto più tempo poi 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 mi sono arrivati questi due orecchini qua questi due orecchini qui che sono tipo di vellutino sul grigio c'erano di tantissimi colori però a me sinceramente piaceva questo grigio anche per cambiare dal solito nero praticamente questa parte qui viene inserita all'interno del lobo ecco vabbè all'interno del lobo dell'orecchio ecco e questa parte qua si va a chiudere così si chiude questi non danno fastidio come quell'altri che vi ho mostrato con le roselline perché in questa zona qui dove sta ecco a contatto la parte del lobo non senti una pressione sono molto molto più comodi questi pagati intorno a un euro meno di un euro comunque sempre pochissimo poi per chi non lo sa ecco ho il piercing appunto all'ombelico ho solamente quello non sono piena non ho tatuaggi per adesso ho solamente un semplice piercing all'ombelico e allora siccome in passato mi erano stati regalati dei piercing su Amazon che infatti inizialmente li prendevo lì solo che poi improvvisamente i costi sono aumentati e quindi praticamente avevo smesso di comprare piercing su Amazon finché poi un giorno appunto ho scoperto questo sito delle meraviglie e ho cominciato ad acquistare lì qualche piercing naturalmente naturalmente mi informo sempre vado a leggere la descrizione che sia di un buon materiale comunque lega di zinco che non crea problemi io non sono allergica a niente però comunque è un piercing abbastanza delicato quello all'ombelico naturalmente quando arriva lì lauli disinfetto faccio tutto quello che è necessario fare e una volta inserito comunque cerco di tenerlo pulito e cerco comunque di come posso dire di disinfettarlo anche una volta inserito comunque ho preso questo piercing all'ombelico questo qua con la mia appunto iniziale la lettera E e anche questo ho pagato un euro e qualcosina comunque meno di due euro se ricordo bene comunque ho passato tanto tempo i prezzi non me li ricordo tutti però tranquilli che vi lascerò tutti qua giù in basso nell'info box nella descrizione ecco questo qui con la lettera E c'erano naturalmente tutte le lettere ma io ho preso la mia cioè illumina tanto è parecchio ecco che non metto a fuoco grazie come collaborare comunque ecco questo qui poi me ne è arrivato un altro che questo ci ha messo un po' di più speravo che mi arrivava per l'estate ma ormai l'estate se n'è andata comunque penso di utilizzarlo appunto per la prossima estate è questo piercing qui con la stella marina e il semplicissimo brillantino argento che in teoria ho questo qui senza il pendente il classico brillantino argento che sarebbe il primo piercing che ti mettono quando vai ecco a a fartelo fare nello studio fatto così anche questo ho pagato meno di 2 euro ne ho veramente tanti di piercing sono sincera però mi piace comunque sia lì cambio quindi alla fine è sempre stiamo parlando di 1 euro non è niente di che fatemi sapere se vi può interessare un video dove mostro tutti i miei piercing che naturalmente non ho preso cioè non è che l'ho preso tutti su amazon non su aliexpress ma molti l'ho comprati anche nei negozi qua ecco della mia città solamente che molti hanno chiuso perché naturalmente su internet costano molto meno nei negozi hanno dei costi cioè allora il discorso è che se lo ordini e bisogna aspettare tanto tempo magari qualcuno non ha questa pazienza se invece una persona lo vuole subito allora gli conviene magari andare in un negozio e comprarlo però è anche vero che cioè meglio aspettare un pochino di più e avere quello che ecco ci piace veramente parlo almeno di due donne chiunque ce l'ha invece magari che vai lì c'è poca scelta ne prendi uno giusto perché lo devi prendere infatti io ho fatto così ho due piercing che appunto ho comprato in un negozio sì mi piacciono ma non è che ci vado matta infatti l'ho sempre messo di meno rispetto a quelli che ho scelto io che c'era più scelta però li metto non è che non li metto non so se mi sono spiegata comunque prossimo piercing è questo qui che non ha la pallina sopra ma ha questo come posso dire sembra quasi un diamantino sì diciamo un diamantino piccolino si svita si svita questa parte qui e sotto ha questo fiorellino sul nero perché non metti a fuoco vediamo qua se metti a fuoco ecco fa questo riflesso ma è normale perché ha la luce e anche questo ha pagato meno di un euro questo rimane più corto rispetto a quell'altri però non è male comunque si svita così e rimane questa piccola vitarella poi dopo questo piercing qua mi è arrivata questa collana questa collana qui con questo guffettino ecco che non si vede con questo guffettino pelosino guardate che carino morbidosissimo veramente molto carino e c'era di tantissimi colori questo me lo ricordo c'era verde blu bianco rosso bordeaux nero sul grigio però a me sinceramente piaceva nero cioè guardate quanto è carino dai metti a fuoco ok questo qui pagato sempre pure questo meno di 2 euro tranquilli link vi lascio tutti qua giù in basso poi 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 mi è arrivata questa collanina ecco che si è già intrecciata bene le gioie di quando uno registra eccola qui praticamente è una collanina sull'oro naturalmente non è oro vero ed è a due a due strati diciamo la parte in alto ha questa catenella qui con tutte queste palline che si alterano tra l'azzurro e l'oro e la parte sotto è più lunga sempre le palline azzurre con queste ciondoli chiamiamoli sì dai su loro rimane molto leggera deve ecco le collane che vanno comunque aderenti ecco al collo non proprio giro collo scendono leggermente però più strati ecco quando magari si ha una bella maglietta scollata qualcosa comunque con un bello con una bella scollatura quelle vanno veramente bene poi scusate ultimo acquisto mi è arrivata questa bellissima collana questa bellissima collana qui con queste rose guardate che bella l'ho presa perché avevo già l'orecchino che mi era stato regalato dal mio ragazzo in passato quando ancora non giravo video e anche l'anello avevo ordinato in passato quando ancora non giravo video e quindi mi manca la collana ho fatto tutto il completo devo dire non è proprio nel mio stile questa collana così grande cioè è vistosa non è grandissima comunque anche questa scende giù lungo la scollatura rifinita benissimo anche gli orecchini l'anello non hanno perso per niente coloro perché dovrebbe essere placata in argento se non sbaglio comunque se vi interessa dopo vi lascio il link andate mi raccomando sempre a leggere attentamente la descrizione di ogni prodotto per chi magari ha allergie o cose così che di solito ci scrivono di che prodotto è però c'è sempre il dubbio se la cosa è vera oppure no come ad esempio cioè nel senso le cose coordinate il consiglio che vi do io guardate anche quanti commenti ci sono quante stelle hanno messo che ok il parere il giudizio è soggettivo assolutamente alcune volte anche oggettivo perché sono cose belle bella però è sempre meglio cercare cioè magari se vedete che lo stesso prodotto lo vendono più venditori però uno ha più commenti uno ha meno commenti magari spendete 10 centesimi di più e avete la sicurezza che quel prodotto arriva sicuro perché ci sono più commenti ecco diciamo che questo è il mio ragionamento però naturalmente ognuno con i suoi soldi fa come vuole e niente i pacchetti erano questi qua adesso metto un po' di cose che mi sono arrivate ecco eccole qua ce la posso fare si è un macello un miscuglio di cose mamma mia che cosa brutta ok comunque non importa spero che il video scusate ma sono raffreddata questa mattina come da parecchio tempo spero che il video vi sia piaciuto di avervi tenuto compagnia se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale i link vi li lascerò tutti qua giù in basso quindi tranquilli se vi piace qualcosa potete andare a vedere tranquillamente e niente un bacione ciao al prossimo video